Ciao e bentornati sul canale, oggi facciamo una recensione molto breve sulle Hot Wheels di Barbie questa è quella del nuovo film appena uscito e noi ne abbiamo già in teoria due ma in questo video ne vedrete solo una ciao, ci sono anch'io allora, le Hot Wheels hanno una caratteristica bellissima, costano poco e rendono tanto questa è quella che ci sarà nel film con Margot Robbie di Barbie 2,50 euro, anche meno quella che hai detto, vediamo quella che avevamo, questa l'avevamo vista nel gioco delle Hot Wheels perché si poteva usare ed era carino, simpatico e divertente e l'abbiamo trovato e anche questo 2,50 euro no ma il camper è il mio preferito, lo trovate nei supermercati, lo trovate nel giocherio poi io non ve lo faccio vedere perché è troppo grande ma io ce l'ho quel camper, quell'esatto camper vai apri tu, apro io anzi ne ho due, in teoria noi avevamo quella dell'extra però non mi ricordo dove l'ho messa e sono specializzati in fare quelle dei film, io ho comprato la Batmobile, quella di Ritore al Futuro tantissime auto ispirate ai film cartonimati o altre, quelle di Masters ho comprato anche, molto bello e in questo caso sono quelle di Barbie e sono fatte bene, vediamo bella comunque devo dire che il film di Barbie mi intriga eh sì decisamente cioè sembra bello, hanno fatto perfino la Barbie, lo sai? hanno fatto la Barbie di Barbie? sì e beh fare la Barbie di Barbie è scontato se non fare la Barbie di Barbie, che Barbie di Barbie devono fare? perché poi la Barbie di Barbie in realtà c'è già la Barbie esatto in questo caso la Barbie del film di Barbie no, la Barbie dell'action di Barbie ok, quindi la Barbie di Margot Robbie, va bene ok verrà carina molto ci sta, soprattutto anche la Barbie, fatta benissimo sì è vestita tipo da cowboy con i pantaloni di zampe e così qua sotto l'autenticità del fatto che è una ah, ti dà anche il modello è una Corvette del 1956 questa è una Barbie Dream Camper invece questa invece appunto, questa non esiste nella vita reale e quindi è solo ispirata se volete potete infilarci le polli pocket e far finta che viaggino facendo finta di essere Barbie dopodiché io non le tengo così le mie sono chiuse, sigillate, scatolate e tanto si vedono da qui la signorina qua invece apre tutto alla grandissima perché dovete sapere dovete sapere che a me, personalmente personalmente oh, dimmi basta non fare, non ripetere quello che dico a pappagallo a pagnagno esattamente eh, allora praticamente io le auto in sé non mi cioè, non mi piacciono particolarmente però non sono brutte cioè, io più che altro le uso per le polli pocket perché abbiamo delle macchinine che usano cioè, perché se no le polli pocket non credo che abbiano delle macchine povere polli pocket senza automobile hanno solo un milione di case stile Barbie però senza un'automobile esatto, poverino però io ho rimediato quindi ho un camper e ben due macchine per la polli pocket e su questo vi ricordo di iscrivervi al canale mettere un like, un like, un like, un commentare, schiacciare la camera su tutti i video attivare tutte le notifiche e come sempre noi vi serviamoci nel prossimo video ciao